Ciao bambini, ciao bambine, oggi vi presento l'albo illustrato Fiori di città di John Arno Lawson, illustrato da Sidney Smith. Finalista premio Anderson 2021 come miglior libro senza parole. È stato scritto dal pluripremiato poeta John Arno e realizzato da Sidney Smith. Questo è un'albo, è un'ode, ha l'importanza delle piccole cose, le piccole persone, i piccoli gesti. Un papà, una bimba è una passeggiata per la città. La bimba lungo il cammino trova dei fiori che raccoglie e regala. I silenziosi doni al passero, al senza tetto, al cane del vicino, al fratello e alla mamma sono le piccole attenzioni che i bambini e le bambine sanno riservare anche a chi non si accorge di loro. Questo libro è un silent book, un libro senza parole. Si intitola Fiori di città di John Arno Lawson, illustrato da Sidney Smith, per Pulce Edizioni. Grazie. Grazie. Grazie.